Federico Di Marco. Un'interviezza intera con microfoni Sport Mediaset. Queste sono le sue parole sul gruppo Nerazzurri il fatto di divertirsi. Lavorare forte e funzionare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene. Possiamo fare ancora meglio. Scudetto? Sicuramente. C'è Napoli perché ha vinto l'anno scorso. Tender sono Milano e Juve. Combatteremo tutti fino alla fine per l'obiettivo. Fandone? Lo spero. È il mio sogno. Il mio sogno è giocare in Inter e non ne vedo nessuno problemi da qui in poi.